Volevano lasciare un segnale del loro passaggio in uno dei luoghi più belli del mondo e per questo hanno pensato bene di incidere utilizzando uno scalpello, il proprio pseudonimo, su una roccia dei grottoni di Calaluna, riprendendo il tutto e postando il video su Facebook. Questo dopo aver scorrazzato sulla spiaggia utilizzando un quad. Per tutta una serie di reati ambientali, due turisti piemontesi di 55 e 46 anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti del Corpo Forestale Regionale di Vigilanza Ambientale della stazione di Dorgali. Gli agenti sono arrivati ad identificare i due vandali attraverso uno scrupoloso lavoro di indagine in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato. I due turisti sono imputtati dal reato di alterazione di bellezze naturali in luoghi demaniali soggetti a tutela paesaggistica e per aver imbrattato beni mobili di pubblico interesse. Inoltre sono stati multati per la sosta nell'arenile con un mezzo motorizzato.